amici dati amici di Gennaro Mastra pizza buongiorno a tutti un brindisi alla vostra e alla mia salute oggi vado a cimentarmi con un piatto come avuto lo spizio e lo faccio e consiste nel fare costolette di maiale con vermicelli vermicelli della sempre della russa e torrente vari aromi e cipolla aglio e peperone aspettate un momento facetemi tagliare qua facetemi tagliare pure l'aglio l'aglio bello tagliato fino 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 l'aglio già sta dentro che ho messo a rosolarlo insieme mettiamo subito il costoletto il costoletto di maiale ecco qua adesso aspettate un momento mettiamo costoletto di maiale a cibo di fabbo ecco qua il tempo che si fanno queste costolette ecco qua io mi accingo ancora a tagliuzzare cipolla aglie e peperone e quindi mi diverto a provarlo un bel buonoso mangiato lo stesso è un facilito ma vero come lo ripetiamo e lo ripetiamo e e dopo ci vado a prenderci un punto di buonarmi o di capire a muraggio e che cambia non cambia niente amici che mi vado a dire che mi scoraggia mai c'è una cosa di bene poi mi serve da insegnamento e ci portate ci apportate qualche modifica ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua allora ora che facciamo giramolo qua questi costoletti maiale ecco qua si stanno facendo bello 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 perdi i due giorni mai salse che salone cioè un pochi sali sangio lettrì un pochi sali perché il sali ci vuole no molto ma ci vuole ecco qua e vai percorso ora mettiamo cipolla aglio e peperone e poi che facciamo ancora riciclare ci mettiamo per un cino un po di pepe un po di pepe e a roma per la carne un po di lavoro per la carne di sapere è bello saputo è ecco allora guardiamo sarà stato io nel contempo che si fa tutto scupe dei dio momentaneamente il saluto mentre ci vediamo dopo sempre alla vostra e alla mia salute ed è così di ritorno amico citari ecco qua voglio fare guardate che colore che bellezza adesso vi faccio vedere come continua e poi ci vediamo dopo allora per adesso ci mettiamo e non in la torrente mettiamo prima mettiamo prima la pasta ecco qua mettiamo la pasta e non in la torrente e non in la torrente e poi ancora cittadino come è ecco qua e poi ancora mettiamo portiamo per far cuocere bene la pasta è passata di pomodoro la torrente con basilico ecco qua grazie amici cari guardate guardate che bellezza quindi la pasta viene cotta direttamente nella salsa e piglio logicamente usa pure dei 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 maria aromi inseriti più o sapore logicamente che costa dentro dei maiali che costa dentro dei maiali eccoci qua ecco 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 allora amici cari mi faccio vedere adesso eh per poi ritornare dopo e vederci dopo un abbraccio a tutti sempre da Gennaro Mastra della Pizza un brind sia alla vostra e alla mia salute a dopo amici cari amici di Gennaro Mastra della Pizza eccoci di ritorno siamo quasi pronti eh sempre un brind sia alla vostra e alla mia salute la pasta si è quasi fatta poi vi faccio vedere come viene il piatto praticamente su piatto va 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 per aromatizzarti e con tutto che 2VC è stati da parte di Leotto sicuramente allora incominciamo incominciamo a togliere la pasta e ecco qua al dente bella al dente come piace a me ecco qua e ecco fatto guardate che delizia guardate che bellezza guardate amici cari poi ci potete dare una bella costatella di maiale un altro po di pasta peperoni ecco qua i peperoni e mi cani e me e me lo ecco di qua i peperoni l'odore è stupendo un odore bellissimo l'odore cosa dice andavo l'odore gli amici i peperoni ma ecco qua ancora i peperoni ed eccoci qua per adesso ci possiamo fermare aspettate un momento ecco qua ecco qua ecco qua la padella innanzitutto guardate che bellizio guardate che bellizio e signori cari ecco il piatto di vermicelli super aromatizzato guardate che bellizio guardate ma ma non cattura cattura quella cosa speciale ho superato me stesso credo non posso iniziamo ecco 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 ma non è stupendo non perché la giofattia ma amici cari provate a farvelo a casa va recreata è veramente una cosa stupenda tutto sti sapori che si sono amalgamati l'uno con l'altro ma l'amici cari non dovete scusare ma vi devo lasciare perché mangiare questo bene e ti chiamare da faccio con il bicchierino ma vedete bene a tutto qua, buona giornata e buon appetito a tutti grazie a tutti